Felicennesimo anniversario. Oggi è un grande giorno per il Krusty Krab. Voglio che voi stiate molto attenti. Planton ha un'occasione unica per tentare di rubare la formula del Krabby Patty. Quello che stiamo vedendo è il Krusty Krab? Non proprio. Quella che vedete è soltanto una proiezione olografica del Krusty Krab. Voglio che voi teniate attentamente d'occhio tutti gli ingressi. Cioè la porta principale, quella sul retro. E queste sono le entrate in superficie. C'è un'intera rete di gallerie di condotti d'aria sotto di noi. Voglio che teniate gli occhi aperti. Non si preoccupi, avremo occhi dappertutto. Molto bene, ragazzi. Voglio che studiate questa mappa. Non smettete di vigilare. Non addormentatevi sul lavoro. Parlo con te, Squiddy. Cosa? Non ci posso credere. Non mi sono mai addormentato sul lavoro. Vogliamo vedere qualche flashback? Bene, come non detto. E per aiutarvi nella ricerca di Plankton, ho anche ingaggiato un terzo sorvegliante. Patrick sarebbe un sorvegliante. Non volevo spendere soldi per una vera guardia. Tu sei la prima linea di difesa, Patrick. Devi tenere d'occhio chiunque ti sembri sospetto. Agli ordini, signore. Dimmi immediatamente come ti chiami e perché stai lavorando. Plankton non ha nessuna speranza. Molto bene. Ora aprite le orecchie. Tutta questa gente è venuta anche da molto lontano perché ama mangiare nel mio locale. Voglio che i miei dipendenti siano inappuntabili. Hai capito qualcosa di quel che ha detto? Certo, non ho perso nemmeno una parola. Nemmeno una, caro Squitty. E adesso, ragazzi miei, diamocene a fare. Vendiamo un sacco di Krabby Patty. Cheese! Me l'ero dimenticato. Mr. Krab, aspetti. Manca ancora l'ultima decorazione. Il mio omaggio al fantastico Krabby Patty. È stato fatto esclusivamente col ghiaccio. Per mille valide. È una statua davvero enorme. È anche freddo. Andiamocene a fare. Ora tiriamola fuori. Subito. A posto. Pronti. Sto bene. Non c'è bisogno di gridare. Oh, no, Patrick, alzati. Siamo bloccati qui dentro. Se non usciamo, rovineremo il nostro ennesimo anniversario. Vogliamo i Krabby Patty. Vogliamo i Krabby Patty. Vogliamo i Krabby Patty. Guardiamo qui dentro. Ricavateci. Come usciremo? Ora, calmatevi tutti. Ho passato la mia vita dentro questo ristorante. So qual è l'unico modo di andarsene da qui. Leggere le evasioni celebri? Non dire sciocchezze. Attraverso i condotti dell'aria. Spettila di soffiarmi sul collo. Ehi, mi sembra di vedere l'uscita. Accidenti, è soltanto la sala di controllo. Wow! La mia casa è in televisione. Tutte le nostre case sono in televisione. Gary Lumacone, scendi immediatamente dal mio letto. Ehi, guardate. Si vede anche casa mia. Hai lasciato accesa la TV? Ma lo faccio sempre per non perdere gli show che preferisco. Ragazzi, guardate. Quello è Sandy. Mr. Krab, per quale motivo hai installato delle telecamere a casa nostra? Oh, becco. Io... Perché volevo assicurarmi che mi lavaste i denti dopo aver mangiato. Grazie, Mr. Krab. L'igiene urale è davvero molto importante. Ma che sono quegli strani tipi? Siamo noi, Patrick. Ma questi altri chi sono? No! 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 Grazie a tutti.